E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, in questo video voglio dire due cose La prima, grande Napoli Che ha vinto 3-1 contro il Bologna E' raga che finalmente Ce voleva stacca... De vittoria... Posso dire la parolaccia? Sta cazzo di vittoria E dai, mamma mia Lo sto più a vincere a Parigià Col sessuolo, sapete quante parolacce ho tirato Meno male Ma davvero meno male Mamma mia Oh, mi ha fatto su da proprio Sta partita E poi raga Comunque Vi volevo dire Che praticamente sì Questo è per gli haters Sì, sono uno 0-10 Insultatemi, vai, andate Vai, vai, insultatemi Sono 0-10 E intanto ho più iscritti di voi Sappiatelo Comunque volevo dire Sono anche solo questo per gli haters E finalmente Napoli ha vinto una cazzo di partita Oh, mamma mia Sta ben infarto Un altro po' E nulla raga Volevo dirvi Solo questa A mille iscritti Vi mostro La persona che sta nel video mystery Vorrei farvi un piccolo spoiler Però vabbè Dai Non ve lo dico Comunque raga Ci vediamo nel prossimo video Ciao Eh scusate raga Volevo fare la figata Vabbè sta scherzando Dai Ciao al prossimo video No raga Stavo scherzando Non lo volevo chiudere Comunque Noi In realtà vi volevo dire un'altra cosa Vi pare che lo chiudevo così filando E nulla Volevo dire che vi voglio molto bene Fatemi arrivare Ma al più presto a mille Ce la faremo Ciao Comunque non stavo filando Sappatelo Stavo scherzando Vi volevo dire questa cosa Al prossimo video Bella Bella